Che cazzo sta Jesse? Dove sta il G.I.A? Dove sta quel pezzo di merda? Dove sta? Hai permesso? Fuori dagli spugnatori! Ok, ok, mamma mia. Di che sarà? Vai qua tu. Johnny? Oh! Tu sei il G.I.A? Giusto? Ci sono. Non mi metti. Tanti applausi per l'unico imbecille che è riuscito a fare peggio di Dalla. Fammi capire quando quel pezzo di merda è intervenuto nel mio match. Tu dove cazzo stavi? Mi è costato il match pentito in tele giornale stasera. Io prenderei quella barba, gli stratterei i peli uno ad uno da quella faccia e da culo che si ritrova. Stai carmi. Mi è venuto un'idea. Lo sai cosa facciamo? Un bel match. Tu contro Jessica. Mi piace. Se vinci, gli taglierai la barba. Questo mi piace, questo mi piace. Ma se perdi, ti taglieranno i capelli. La barba, gli tagli. Ti ruviderà tutta l'acconciatura. La barba, gli tagli. Aspetta, cos'è sta cosa dei capelli? Ehi! Sta cosa dei capelli che cazzo... Ciao!